Sono finiti in carcere e dagli arresti domiciliari i quattro soggetti ritenuti responsabili della rapina ai danni della sala slot La Perla di Colonnella avvenuta il 23 gennaio scorso. A seguito di complesse indagini dirette dalla procura della Repubblica di Teramo e svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Teramano e dalla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, alle prime luci dell'alba di oggi i carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, coadiuvati da quelli dei comandi provinciali di Ascoli Piceno e Lecce hanno dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della procura. La sera del 23 gennaio di quest'anno, pochi minuti dopo la mezzanotte, un uomo e una donna fecero irruzione tra visati e armati rispettivamente di pistola e di una grossa ascia all'interno della sala slot La Perla. Minacciata l'impiegata, i due riuscirono a farsi consegnare dalle casse del locale circa 26 mila euro per poi dileguarsi. Attimi di panico anche per un'avventrice del locale minacciata dai due affinché si disfacesse del proprio cellulare. Le indagini, rese particolarmente complesse dalla capacità di l'elinquere degli arrestati, hanno avuto la svolta nel corso di un'altra attività investigativa, quella condotta dai carabinieri in relazione al conflitto a fuoco avvenuto il 30 gennaio 2020 a Colonnella, all'interno del quale l'albanese Xisha Regent esplose diversi colpi di pistola all'indirizzo di una pattuglia del radiomobile di Alba Adriatica prima di darsi a una disperata fuga, conclusasi a Brindisi con il suo arresto. Proprio allo stesso albanese ed a due complici sono state infatti attribuite delle responsabilità per la rapina della sala slot La Perla. Si tratta del cittadino albanese, di una donna di 43 anni e di un 37enne, tutti pregiudicati, ritenuti esecutori materiali della rapina e di un 69enne che avrebbe aiutato i tre a deludere le indagini ospitandoli nella sua abitazione in provincia di Escoli Piceno.